La pagina sportiva in apertura alla mountain bike, saranno decisive le ultime quattro gare per l'esito della Coppa Toscana, ce ne parla Giulio del Fiorentino. Con le tappe del Ciocco e del Rampichiana, la Coppa Toscana di mountain bike ha superato il giro di Boe, alle porte di due mesi di fuoco con le ultime quattro gare, fa i conti della situazione. Dopo cinque prove, le classifiche delle varie categorie sembrano consolidate, ma basta poco per rimettere tutto in discussione, anche perché chi comanda non potrà saltare nemmeno un appuntamento. Il circuito continua ad avere il suo principale riferimento nella ciclita Day, che oltre a essere in testa nella classifica di società, con un vantaggio comunque non rassicurante sulla New Bike 2001, ha anche cinque leader di categoria. Grandi riscontri anche per la polisportiva Indicatore Specialized. Con quattro leader di classifica in graduatoria ci sono ben 972 biker e dopo il forzato annullamento della passata stagione, miglior ritorno la Coppa Toscana non poteva avere. La prossima tappa è fissata per il 5 settembre, con la classica Stracca Bike di Prato Vecchio, in provincia di Arezzo, pronta a festeggiare la sua 29esima edizione. Il Beach Soccer, la nazionale italiana, è in ritiro a Tirrenia. Riparte il Beach Soccer azzurro, il Ct della Nazionale Emiliano del Duca ha ufficializzato la lista di eventi convocati, che parteciperanno al raduno di preparazione degli europei, che si svolgeranno a Fighera da Fozzo, in Portogallo, dal 9 al 12 settembre. Questo primo collegiale si terrà nel centro tecnico di Tirrenia, che ha recentemente allestito un campo di bici soccer all'interno della struttura dedicata alla preparazione olimpica. Gli azzurri della sabbia inizieranno la loro preparazione sabato 14 per terminare questo primo step lunedì 23 agosto. Il raduno successivo inizierà il 29 agosto, sempre a Tirrenia, e sarà quello decisivo per scegliere poi i 12 giocatori che prenderanno parte alla fase finale dell'europeo. Le avversarie dell'Italia saranno Spagna, Portogallo, Ucraina, Beloruzio, Svizzera, Russia e Polonia. Alcune novità tra i bici erano chiamati da Del Duca, in particolare i due Under 20 Fabio Pugliese e Tommaso Fazzini, ambe due giocatori del Vareggio Beach Soccer Under 20, sconsacrati campioni d'Italia della categoria nella prima edizione del torneo organizzato dalla Lega Nazionale di Lettanti. Quest'anno Fazzini, premiato come miglior giocatore del campionato. Oltre i due Under 20 da menzionare, Joseph Junior Gentilina, già protagonista assoluto nelle qualificazioni dello scorso luglio a Nazareth, e Antonio Argentieri della Vastese, ambe due appena 21 anni. Lista dei convocati, portieri Alessio Battini del Catania, Andrea Carpita del Vareggio, Simone del Mesa della San Benedattese, Sebastiano Paterniti Barbino del Catania, difensori Alessio Frainetti del Terracina, Daniele Lauri del Nettuna, Alessandro Miceli della San Benedettese, Fabio Pugliese del Viareggio. Esterni Luca Addari della San Benedettese, Antonio Argentieri della Vastese, Joseph Junior Gentilina del Napoli, Marco Giordani del Terracina, Marcello Persia Montani della San Benedettese, Dario Ramacciotti del Catania, Salvatore San Filippo del Levante, Lorenzo Vaglini del Pisa. Attaccanti Tommaso Fazzini della Viareggio, Gabriele Gori del Catania, Francesco Fabio Sciacca del Catania, Emanuele Zullo, anche lui del Catania. È tutto anche per lo sport, di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.